buongiorno a tutti io sono alfiero santarelli di atesistemas e questo breve video è pensato per le aziende che attualmente utilizzano prodotti di atlassian della linea server e hanno sentito parlare del nuovo annuncio che il produttore ha fatto della fine supporto dell'endo supporta di questi prodotti lendo support vero e proprio è previsto per l'inizio del 2024 quindi in teoria non c'è urgenza di prendere iniziative tuttavia ci sono delle novità che vi riguardano fin dall'inizio del prossimo anno e quindi abbiamo pensato di fare un po di chiarezza quindi vediamo innanzitutto quali sono le date fondamentali del processo di trasformazione che è innanzitutto strategica per i prodotti atlassian e che inizierà con il febbraio del prossimo anno due sono le date che potete prendere a riferimento il 2 di febbraio del 2021 che è la data in cui atlassian interromperà la vendita di licenze dei prodotti server e sempre il 2 di febbraio che viene a rappresentare una sorta di milestone anno per anno dell'avanzamento di questo processo nel 2024 il 2 di febbraio terminerà ogni attività di manutenzione dei prodotti server ciò significa che la licenza continuerà a rimanere valida attiva perché come è scritto sul contratto di licenza stessa tale licenza è perpetua ea vita i prodotti continueranno a funzionare ma non verranno più rilasciati bug fix non sarà più disponibile il supporto attraverso atlassian e non verranno nemmeno rilasciate le patch di sicurezza nel mezzo sono previste alcune alcune tappe che sono pensate per progressivamente facilitare il percorso di transizione anche incoraggiare le persone a prendere una decisione per capire quale sarà il futuro delle loro installazioni ricordiamo che atlassian attualmente supporta tre linee di prodotto server che è la versione on prem classica che progressivamente va appunto è destinata a non essere più supportata data center che è una versione a un prem alternativa pensata per grandi clienti grandi installazioni istanze clasterizzate supportate da politiche di high availability e infine la versione cloud che è un classico software as a service e l'idea di atlassian è che se non la totalità dei propri dei propri clienti comunque la maggior parte rinuncerà a continuare ad utilizzare l'istanza center l'istanza scusate l'istanza server per passare a una delle altre due linee di prodotto quali sono i passi temporali con cui atlassian vorrebbe marcare questa trasformazione nel 2022 è previsto a innanzitutto dimenticato di dire che contestualmente alla fine della vendita di licenze prevista appunto per febbraio terminerà anche lo sviluppo attivo di tutti i prodotti atlassian nella linea server quindi non verrà più svolto alcun sviluppo di nuove funzionalità per gira software per confluence per service desk per i big bucket e anche per tutte le applicazioni del marketplace che atlassian attualmente gestisce possiede quindi portfolio for gira che adesso si chiama ufficialmente advanced roadmaps inside team calendars e altre fanno eccezione due prodotti molto utilizzati nel mondo dello sviluppo che sono fisheye e crucible questi prodotti non sono interessati dal land of support sono stati passati viceversa in diciamo in stato di basic maintenance sono considerati prodotti maturi con un'evoluzione più lenta e un ciclo di vita differente tornando invece a tutta quella che è lo stack di prodotti interessati da questo cambio nel 2022 terminerà la possibilità di fare upgrade e downgrade sulle installazioni esistenti quindi fino al 2021 si possono acquistare licenze per nuove installazioni dopo febbraio del 2021 si potranno sicuramente fare rinnovi di licenze e anche proporre upgrade e downgrade per esempio se io a ottobre del 2021 volessi passare da 100 a 200 utenti di confluence server lo potrei ancora fare se io a gennaio del 2022 volessi scendere da 100 a 50 utenti di gira software lo potrei fare dopo il 2 di febbraio questo non sarà più possibile infine nel 2023 verrà anche terminata la vendita di tutte le applicazioni a classian di terze parti quindi prodotti come mi vengono in mente project configurator configuration manager adaptavist script runner con cui potrete complementare le vostre istanze di service desk di confluence di gira fino appunto a febbraio del 2023 dopo quella data la vostra istanza verrà sostanzialmente congelata nello stato in cui lo avete definito fino a quel momento perché atlassian fa questo perché ha il pieno controllo sulle proprie linee di prodotto ma deve dare anche ai vendor di terze parti il tempo per adeguarsi alle nuove necessità inoltre un forte meccanismo di incentivo che atlassian sta mettendo in campo è legato al pricing alla scontistica vi dicevo che ci sono delle novità che vi riguardano fin da febbraio 2021 una di queste sicuramente è il fatto che i prezzi del rinnovo delle licenze server e anche i prezzi di data center attenzione vanno ad aumentare già dal 2 febbraio di 2021 e questa logica di aumento dei prezzi sicuramente prosegue per tutti quelli che sono i prodotti server viceversa per i clienti che già dispongono di una licenza e sono pronti a passare a cloud oa data center atlassian prevede delle politiche di scontistiche generose quindi in questo caso qual è a nostro giudizio il messaggio abbastanza chiaro che il produttore ci sta dando prima decidete di migrare meglio è sia per atlassian che per il cliente stesso adesso però bisogna anche capire che cosa significa migrare perché i prodotti non sono tutti uguali non è solo una questione di differenza di licenza di pricing ci sono delle oggettive differenze in termini di funzionalità ora se data center è comunque abbastanza simile a server in quanto rappresenta un altro tipo di installazione on prem che supporta funzionalità aggiuntive come la high availability la possibilità di clusterizzare di collegarsi a un load balancer il cloud invece è un prodotto sostanzialmente differente non è solo software as a service ma anche delle funzionalità diverse una logica diversa di disegno del prodotto e dell'interazione e ha anche bisogna dirlo oggettivamente dei gap che si sta affrettando a colmare infatti il cloud con le sue tre linee standard premium enterprise attualmente rappresenta la maggior parte degli investimenti di atlassian in nuovo sviluppo e dovendo mettere in evidenza quali sono le maggiori limitazioni del prodotto cloud a oggi termine del 2020 sicuramente noi vorremmo indicare i limiti imposti al numero di utenti supportati questo anche per garantire un certo tipo di performance quindi per i piani standard e premium del cloud c'è il limite a 10.000 utenti che può non essere un problema per la maggior parte di voi ma per alcuni lo è la disponibilità di alcune app anche importanti sul marketplace per il cloud che non sono ancora state portate dai loro vendor o che magari sono disponibili ma sono disponibili in una versione più verde meno matura le limitazioni lega le limitazioni per quello che riguarda le possibilità di sviluppo custom e infine anche la limitata possibilità di definire i criteri di data residency sappiamo che per chi lavora come per chi lavora in italia in europa poter definire precisamente se i dati degli utenti sono residenti su server in europa o negli stati uniti o in altre zone del mondo può essere importante e questo per la maggior parte dei piani cloud al momento non è possibile quindi la domanda penso da parte della maggior parte delle persone che stanno seguendo questo video è ok ma io che cosa devo fare il nostro consiglio come a te sistemas è quello di orientarsi ai prodotti cloud a meno che non abbiate delle esigenze molto specifiche perché il data center è destinato ad essere una linea di prodotti sicuramente di nicchia per clienti con un grande numero di utenti si parla di cinquecento mille cinquemila diecimila utenti e avrà anche dei costi corrispondenti che non tutti possono voler sostenere e d'altra parte è chiaro che il cloud è la direzione indicata ad atlassian il cloud è il futuro di atlassian quindi anche basandoci sulle indica sulle indicazioni che la stessa sta dando se voi siete pronti già a migrare cloud vedete che comunque una soluzione di tipo sas è conforme a ciò che vi serve incominciate a pianificarlo se invece non siete pronti dovreste valutare se lo sarete da qui al 2024 sempre ovviamente nel caso in cui voi vogliate mantenere il vostro prodotto aggiornato al passo con i tempi e garantito da una forma di supporto perché come ho detto le licenze rimangono valide ma se invece voi poste intenzionati a fare questo cambiamento lo dovreste pianificare di qui ai prossimi tre anni e nel con sempre la possibilità di rinnovare le licenze esistenti con una politica diciamo attendista se invece vedete che comunque il cloud il prodotto di tipo cloud non va bene per voi per una delle varie ragioni possibili per esempio perché voi avete una forte necessità di controllo di accesso diretto ai vostri dati allora in questo caso il prodotto data center è quello che fa al capo al caso vostro e potreste già iniziare a pensare di di trasferire di trasferire le vostre istanze ora noi come possiamo aiutarvi in questo processo per noi l'idea di migrare non è qualcosa che nasce adesso con l'annuncio del land of support è un qualcosa che abbiamo fatto a lungo in casi molto diversi tra loro in varie circostanze per i nostri clienti che per una ragione o per l'altra o per la necessità di introdurre una piattaforma più clasterizzabile o per il desiderio di passare a un deployment di tipo pass appoggiandosi ad aws o perché effettivamente già il software as a service gli piaceva ci hanno commissionato diversi progetti di migrazione e qui vi presento quelli più le referenze più importanti voglio voglio per esempio elencare quella di car for quella di car glass o quella dei viaggi del corte inglese che sono state migrazioni di tipo differente e qui chiaramente abbiamo potuto anche fare molta esperienza di quelli che sono le difficoltà le limitazioni definire processo in forma più strutturata inoltre è già da anni che noi stiamo maturando esperienza su deployment che siano nativamente di tipo data center o di tipo cloud potendo in questo caso sfruttare già nella fase di disegno della soluzione le diverse funzionalità che questo tipo di prodotti presentano e offrono quindi ciò che noi in questo momento vogliamo proporre sia ai nostri clienti esistenti che anche ad altre aziende che non hanno mai lavorato con noi magari hanno iniziato a conoscerci proprio in questo momento grazie a questa campagna e però hanno questa particolare esigenza in questo momento della loro vita vorremmo appunto proporvi una sessione di assessment in cui analizzare con voi prove contro necessità specifiche lo stack di prodotti da migrare quali sono le vostre app di marketplace e vedere se c'è il corrispondente nello stack di destinazione o se magari vanno sostituite con una più adeguata e anche tutti gli impatti a livello di sviluppi custom e inoltre in una seconda fase vi potremmo affiancare nel vostro processo decisionale tenete conto che la migrazione è un processo che come ho detto noi abbiamo studiato sperimentato e messo in pratica negli anni ne abbiamo codificato precisamente i passi passi che sono diversi a seconda del caso dello scenario una cosa è passare da un'istanza server a un setup di tipo cloud una cosa è passare a un'istanza di tipo sal data center con un singolo nodo dove in realtà le differenze a questo punto non sono molto rilevanti o sfruttare invece a pieno tutte quelle che sono le potenzialità del data center con un'istanza clusterizzata in high availability inoltre come forse avete già visto nelle referenze che ho presentato prima noi abbiamo già diverse abbiamo ci siamo già confrontati con diverse situazioni in cui il nostro stesso cliente ci ha chiesto un deployment dell'istanza del prodotto di tipo data center sui pass sui platform as a service più comuni sul mercato e anche supportati da classe anche sono amazon web service e microsoft Azure in questo caso noi siamo già a disposizione con una serie di materiali consolidati che permettono di facilitare la configurazione la replica di configurazioni l'impostazione dei backup e le logiche di monitoraggio fino a questo momento non ho parlato molto della nostra azienda perché mi rendo conto che obiettivamente a voi interessa di più capire qual è il destino dei vostri prodotti dei prodotti che state utilizzando ad ogni modo mi piace parlare un po di noi anche perché non tutti ci conoscono e devono capire anche il nostro livello di competenza AT Sistemas è un'azienda con sede in Spagna e con sedi in Italia e in Portogallo ma il quartiere generale a Madrid è una IT consulting con 25 anni di storia e con una importante divisione che si occupa di prodotti e di soluzioni Atlassian all'interno della quale operano oltre 100 specialisti a vario titolo dai consulenti agli sviluppatori agli architetti di sistema e in cui vantiamo più di 60 certificazioni ufficiali del produttore siamo partner di Atlassian da oltre 8 anni abbiamo più di 200 clienti attivi i nostri servizi comprendono e coprono l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle soluzioni andando dalle consulenze con valutazione dei requisiti del cliente una più pratica fase di installazione parametrizzazione siamo in grado di curare integrazioni di vario genere con scripting sviluppi su misura offriamo formazione come chiaramente si è capito da questo video siamo piuttosto forti e specializzati nelle migrazioni e nelle attività di progettazione di infrastruttura offriamo manutenzione post vendita in aggiunta e complementare a quella fornita dal vendor oltre a fornire chiaramente servizi di manutenzione regolare e proattiva e infine prevediamo anche attività di license management. Con questo io ho concluso il mio breve intervento che voleva essere unicamente una panoramica introduttiva è possibile che faremo altri video dell'argo sull'argomento in ogni caso se avete delle curiosità specifiche o se volete approfondire vi suggerisco di scrivermi rimandarmi una mail potremmo fissare un breve appuntamento per una telefonata o una videochiamata e rispondere a tutte le vostre domande